ma buongiorno buongiorno e sì quello il fatto del sì mi è passata la testa cuore tutto a posto tutto a posto stavo dicendo il fatto del sogno del di capriccio e non capriccio l'altro l'altro giorno quando è stato ieri ti disse la vuoi smettere di fare il capriccioso che poi gli dicessi anche te vabbè anche te fai i capricci e quindi hai sognato questa cosa con il macchinone un carico di panettoni come a babbo natale a distribuire i regali senza barba però quindi questo significa senza babbo natale mannaggia la miseria ieri sera ragione era all'olanda io poi mi sono confuso a dirti belgio se non so perché mi confondo sempre quando gioca olanda vabbè belgio era mai fuori però prima mi confondevo sempre olando belgio lando belgio paesi bassi e vabbè e comunque ieri visto la partita c'è l'argentina vincere 2 a 0 sul finale sugli ultimi dieci minuti hanno parecciato supplementari e poi rigori e vabbè stasera non so chi gioca sinceramente dopo vedrò così non mi sbaglio e vabbè 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 senti e niente ho fatto quell'azione no stamattina non sono uscito col macchinone perché stava dentro e stava una macchina davanti alla sala cinesca e non l'ho potuto uscire quindi me ne sto andando con la macchina di zianna senti cuore il resto è tutto a posto il tempo fa schifetto vabbè stanno a 13 gradi non è freddo però è tutto nuvoloso non c'è nebbia oggi quindi diciamo che almeno non questa nebbia di questi giorni è scomparsa e poi niente niente di che corre tutto tranquillo tutto a posto piuttosto tu mi devi dire un po' come ti senti e quant'altro non ho chiesto all'anto se stamotte ha avuto gli squilli sinceramente vabbè magari dopo glielo chiedi tu io fino adesso non ho avuto squilli niente giuseppe non si è fatto sentire proprio qua eh ma monello 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 ieri disse ti chiamo io ti chiamo io ma mi ha chiamato proprio e vabbè sono bambini evidentemente era preso a fare altro vabbè non importa e e poi niente ma mi vado a fare un caffè ma il caffettino ci sta a cuore così ti svegli ci si sveglia completamente insomma e basta prima dal lavoro vediamo un po' va bene e fammi sentire un po' che cosa si dice se ci sono novità va bene ci aggiorniamo a dopo ok un bacio un cuore e un abbraccio a dopo ciao